Amici sportivi di fuori aria calcio, le nostre telecamere questa settimana sono venute a trovare l'ASD Sparta Sant'Ammaro, nuova società che si è avvicinata alla nostra trasmissione su Tele A+, lo voglio ricordare, sul canale 79. Abbiamo intervistato il vicepresidente dell'ASD Sparta Sant'Ammaro, il tecnico Perotta e i nuovi acquisti. Dunque sette nuovi acquisti per la società Gialloblé Casertana, pronta per ripartire già da domenica prossima contro il Big Match della Pianurese, società che occupa il terzo posto in classifica. Se la regia è pronta può partire il contributo filmato con le interviste che abbiamo realizzato con i nuovi acquisti. Amici di fuori aria, siamo in compagnia del presidente del Sant'Ammaro, Giuseppe Montesano. Intanto, presidente, benvenuto tra i club della nostra trasmissione fuori aria calcio. Benvenuto a voi, grazie per questa collaborazione e spero di farvi divertire con la nostra squadra. Noi abbiamo visto la vostra organizzazione che a primo impatto, da seconda categoria ci sembra ben poco. Sembra già un'immagine di una squadra di almeno di promozione. Sì, speriamo. Ci piace l'organizzazione e quindi vogliamo continuare così. Per andare subito al calcio così giocato avete messo a segno gli ultimi cinque colpi, anzi oserei dire anche sette colpi di mercato. Li vogliamo ricordare Domenico Piscitelli, Roberto Assante, Esposito Vincenzo, Piscitelli Andrea, ex Trani, Dionisio Nuzzo, Pascarella Mario e Tufano. Tutti i giocatori di categoria superiore proprio per dare quel tocco di qualità. Questo è un chiaro segnale alla piazza che il Sant'Ammaro ce vuole fare sul serio. Sì, purtroppo abbiamo avuto degli infortuni e poi anche qualcuno che ci ha lasciato e quindi siamo dovuti andare sul mercato per rinforzarci. Quinto posto in classifica, presidente. Domenica avete in casa l'Inter Pianura, una squadra con una compagine abbastanza forte che occupa la terza posizione in classifica. Con quale mentalità si scenderà in campo? Sicuro con una mentalità vincente, quindi sarà una grande partita perché loro sono più avanti di noi, quindi se vinciamo comunque mettiamo zona playoff, quindi possiamo farci. Il messaggio che vogliamo lanciare ai tifosi del Sant'Ammaro? Ci devono venire a sostenere perché comunque grazie a loro anche i giocatori prendono più convinzione di quello che stiamo facendo. Noi vi aspettiamo naturalmente in studio su Attele A con Fuori Area Calcio dove con voi apriremo una finestra sul campionato di seconda categoria. Sì, sicuramente ci fa piacere. Con Esposito, centrocampista, new entry nelle file giallobere del Sant'Ammaro, con quale idee? Con quale idee? Innanzitutto ringrazio la società per avermi accolto e averci accolto insieme in questa avventura calcistica. Io venivo da un campionato di prima categoria, ho sposato l'idea che il mister mi aveva proposto e ho confermato vedendo tanto entusiasmo, tanta organizzazione, quindi sicuramente puntiamo a qualcosa, mi diamo in alto sicuramente. Speriamo domenica di fare una buona partita e cercare di consolidare la zona playoff che penso sia l'obiettivo minimo per quanto riguarda la nostra squadra. Ecco, tu parli di playoff, domenica c'è una testa di serie che approfittiamone per lanciare un messaggio proprio perché il dodicesimo uomo in campo da sempre è sempre stato il tifoso. I tifosi sì, sono il dodicesimo uomo in campo, quindi chiedo una grossa mano da parte dei presenti e quindi un aiuto in più per portarci alla vittoria finale. Roberto Assanti, una delle sette new entry nelle file del Sant'Ammaro, attaccante, proveniente dal San Marco Evangelista. Beh, un attaccante come sempre promette qualche gol in più. Speriamo, facciamo il nostro mestiere, quindi speriamo di dare soddisfazione alla società con tanti pull e risultati che ci permettono di andare in categorie superiori. Il tuo impatto con la piazza di Sant'Ammaro, con mister Perotta che ritrovi appunto, come è stato? Il mister lo conosco da diverso tempo, quindi c'è già un rapporto di confidenza e amicizia, l'ho conosciuto il presidente che è una persona eccezionale, direttore filosa, tutta la dirigenza, che non mi sono sembrate persone che vogliono fare calcio seriamente. Domenico Piscitelli, ex San Marco Trotti, portiere, anche lui un new entry nel Sant'Ammaro, allora il tuo impatto con questa nuova piazza? Una società abbastanza seria, ultimamente non se ne vedono in giro. Sto qua già da due settimane, ho visto che comunque è la società abbastanza attaccata a questo sport. Sono molto contento di farne parte e spero insieme al presidente, al mister e a tutti di portare gloria in questa società. Centrocampista, ex Durazzano, parliamo di Dionisio Nuzzo, già a disposizione per il Sant'Ammaro, ma in realtà è impiegabile per una questione di svincolo da gennaio. Secondo allenamento per te, come è stato il tuo impatto? Beh, è stata una bella accoglienza sia per il presidente, per il mister, per i ragazzi del gruppo, cioè un gruppo molto compatto, motivato, vogliono fare bene e speriamo di accontentare questa piazza, diciamo. Tu hai parlato di motivazioni, cosa si prova a rimanere fuori dal campo e non poter giocarsi 90 minuti e vedere i propri compagni? Eh, è dura, dura perché quando vedi i propri compagni che giocano vorresti giocare, vorresti dare tutto, vorresti dargli una mano, ma purtroppo stiamo così per via degli svincoli. In attesa. In attesa, diciamo, sì. Che messaggio vogliamo lanciare ai tifosi, visto che domenica tra l'altro ci sarà un big match contro l'Inter Piana, terza testa di serie? Beh, io spero che i tifosi vengano a sostenere la squadra perché comunque è un bel gruppo, è un bel ambiente che ci danno magari loro anche una mano ad affrontare partite come questa, dura, come l'Inter Piano rese. Il grande colpo del Sant'Ammaro lo ha messo a segno proprio con Andrea Piscitelli, ex Trani, ex appunto Veroli. Allora, il tuo arrivo porta una ventata di esperienza, tanta qualità, tanta forza. Sì, io sono molto contento di sposare questo progetto, il mister mi ha voluto e sono molto felice. Non mi piace parlare molto di me, ma spero di, mi piace più di dimostrare in campo. Attaccante, attaccante di razza, come abbiamo detto, normalmente cosa ti senti di dire nella piazza dove arrivi di promettere tanti gol oppure di volare basso? No, lo spero, io do sempre il massimo e spero di fare tanti gol per il mister e per questa società perché vogliono salire di categoria. Il tuo messaggio agli sportivi di Tele A più, tra l'altro tu hai giocato anche in Puglia, noi ci vediamo anche in tutta la regione Puglia, nel Lazio e in Campania con fuori aria calcio. Il tuo messaggio anche da ex Trani. Saluto tutti e ora sono qui e penso a fare bene qui. Allora, siamo in compagnia di mister Perotta Nicola, da tutti definito, da molti addetti ai lavori, definito l'uomo in più di questa squadra. Sono i complimenti che fanno piacere, cerco di fare il mio lavoro e lo faccio da parecchi anni, quindi di trasmettere il mio protocollo calcistico alla squadra e ai ragazzi e cerchiamo di fare bene qua in questa piazza piena di entusiasmo, piena di organizzazione, di una società giovane che cerca di salire un po' il gradino più in su della seconda categoria. Comister, vogliamo presentare agli sportivi di Tele A+, di fuori aria calcio, il suo modulo calcistico? Ma io ho un po' particolare sui moduli perché non è che ci credo tanto sui moduli, nel senso che 3-4-3, qualcuno gioca 3-5-2, 4-4-2. Io dico che c'è un modulo che va bene per tutte le partite di calcio dove i difensori, gli attaccanti e i centrocampisti devono fare quello che gli viene detto da un allenatore, quindi c'è la fase di attacco e la fase di difesa. Se tutti quanti si sacrificano allora nasce il modulo, ma voglio dire non è in base alle partite che preparo, in base agli avversari che li vado a vedere la domenica quando non gioco io, li vado a vedere, me li studio e poi adatto un modulo in base alla partita degli avversari. Ecco mister, sette colpi di mercato, un mercato proprio rivoluzionario in Casa Sant'Ammaro, le ricordiamo Piscitelli a Sante, Esposito, Piscitelli a Andrea, Dionisio, poi Pascarella che non sono oggi qui presenti alla presentazione, Mario, Tufano a Andrea, un altro centrocampista, tutti giocatori di una certa qualità proveniente da club altrettanto importanti come Durazzano, Acerana, Trani, Amorosi, San Marco Trotti, voglio dire, questo è il chiaro segnale che questa società, appunto l'ASD Sparta Sant'Ammaro vuole chiaramente dimostrare tanto bene. Questa è la dimostrazione, innanzitutto ringrazio i ragazzi di aver sposato questo progetto, però questa è la dimostrazione che un giocatore come Assanti che sta prima in classifica a San Marco Evangelista, sposa il progetto di scendere di categoria e di venire a Sant'Ammaro, quindi voglio dire è anche una soddisfazione nostra come Piscitelli, in colpo di mercato, in categoria superiore, viene a Sant'Ammaro per sposare questo progetto, quindi il calcio è uguale a tutti i livelli, però quando vedi che c'è organizzazione societaria già dalla seconda categoria che ha fatto le cose in un certo modo, non esiste categoria, quindi ho una rosa di una ventina di giocatori, facciamo l'evento il martedì e il giovedì, gente organizzata, non manca nessuno, chiaramente sono andati via dei giocatori, abbiamo ringraziato, la società sta a disposizione per chiunque, però i giocatori vanno e vengono, ma lo Sparta rimane, quindi la domenica noi dobbiamo avere la gente che... Ecco, mister, scusami se ti interrompo, ma tu hai parlato proprio di domenica, domenica tra l'altro abbiamo una gara abbastanza difficile, parliamo dell'Inter Pianura, una società che occupa il terzo posto in classifica, mister Perotta, come affronterà questa gara? Ma affrontiamo la partita come tutte le gare, noi l'abbiamo preparata, ne abbiamo studiati, li ho visti giocare, è una squadra abbastanza tosta, quindi noi ci metteremo tutta, giochiamo in casa, quindi non c'è nessuna paura di nessuno, quindi noi ci giochiamo la partita rispettando l'avversario, vediamo chi è più bravo, alla fine vince, noi ce la metteremo tutta sicuramente. Ecco, mister Perotta, per chiudere questa bella intervista con lei, intanto, come abbiamo detto col Presidente, benvenuto a Fuori Area Calcio, poi l'aspettiamo in studio per elaborare un attimino quello che è la sua squadra e presentarla al meglio a tutta la Regione Campania e non solo. Domenica non potrà contare su due dei sette giocatori da voi acquistati? Sì, c'è Dionisio che l'hanno svingolato, quindi aspettiamo il 6 gennaio per quanto riguarda il tesseramento e non ce l'abbiamo fatta con Piscitelli perché l'hanno svingolato ieri mattina, il ragazzo anzi era convinto di non essere ancora svingolato, però, vabbè, pazienza, abbiamo comunque i nostri due attaccanti, il bomber Cantiello che, voglio dire, l'altra domenica ha fatto tre gol, quindi non mi piango addosso, vado avanti, poi i nuovi bisogna un po', voglio dire, abbiamo il tempo in questa sosta di integrarli, di prepararci, quindi assimilare un po' gli schemi e la conoscenza con i nuovi compagni e quindi saranno pronti per il 6 gennaio. Manca, voglio fare un appunto, Tufano che domenica è convocato, quindi scende in campo e Pascarella, Mario che saluto, problemi di famiglia stasera non è potuto stare qua alla presentazione che martedì comunque viene e allora abbia anche lui. Allora, con l'assessore Francesco Della Monica, assessore allo sport del comune di Sant'Ammaro, il binomio politica e calcio è un binomio importante per questa città, questo è un chiaro segnale che appunto la politica è vicina a questa società e all'ambiente di Sant'Ammaro. Sicuramente, io sono stato chiamato in causa circa sette anni fa dal mio primo inserimento come delegato allo sport, molti di questi ragazzi, amici, mi vengono a proporre di questo grande progetto, siamo partiti sette anni fa, ancora oggi siamo qua, ma io penso che la svolta sia stata data proprio l'anno scorso e quest'anno dalla venuta del caro amico Giuseppe Montesano, di cui nel Presidente, e di cui stiamo facendo cose veramente spettacolari per lo Sparta Sant'Ammaro. Spero che durerà il più tempo possibile e che oggi come oggi penso che la categoria non ci merita per le cose che stiamo facendo molto importanti. In compagnia del Vice Presidente del Sparta Sant'Ammaro, Daniela Buonavolontà, allora sono pochi i dirigenti di Sesso Rosa ed è un piacere intervistare un Vice Presidente di una squadra maschile. Sì, grazie, buonasera. Sono felice di questo perché più donne dovrebbero secondo me seguire il calcio. Amo tutti gli sport, questo in particolare, mi fa piacere farlo qui a Sant'Ammaro dove ho trovato comunque persone oramai amiche e quindi speriamo che duri il più tempo possibile la nostra collaborazione in bene per questo Sparta. Ecco, Vice Presidente, che messaggio vogliamo lanciare ai tifosi santammaresi per starvi più vicini? Noi chiediamo comunque l'appoggio di tutti perché è un anno particolare dove stiamo cercando di fare il possibile. Miriamo ai play-off e se riusciamo alla vincita di questo campionato. Abbiamo preso il mister per rotta proprio per questo, i nuovi acquisti che abbiamo presentato questa sera. Ora bisogna solo far parlare il campo.